Tragedia questa mattina ad Ischia, in via Leonardo Mazzella, è morta Christine Rodenstein, 80 anni, dopo essere precipitata da un balcone facendo un volo di ben tre piani. La donna, classe 1939, era la moglie di Michele d'Arco, noto politico in attività tra gli anni 70 e 90 nel comune di Ischia ed ex dirigente scolastico. Erano le 8.30 circa di questa mattina quando la signora Christine, come era abituata a fare quotidianamente, si era recata in un'abitazione a pochi passi da casa sua per prendere il caffè ed iniziare la giornata. Sembra che ad un certo punto la signora Christine sia precipitata dalla terrazza mentre la padrona di casa stava preparando il caffè. Il tonfo ha poi allertato le persone del vicinato che a corse hanno trovato la donna senza vita a terra. Il volo di ben tre piani l'è stato fatale, la donna è morta sul colpo. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Ischia guidati dal luogotenente Michele Cimino, oltre ai sanitari che però non hanno potuto che certificare la morte della signora Christine. Non è ancora chiaro se si sia o meno trattato di un suicidio, visto che sono ancora in corso le indagini da parte delle autorità. Quel che è certo è che davvero nessuno vuole credere che la morte di Christine sia stata dovuta ad un gesto voluto, ad un suicidio. Questa almeno l'opinione che è circolata dopo la notizia della tragedia in via Leonardo Mazzella. Una persona perbene, silenziosa, tranquilla, mai avremmo pensato che si sarebbe potuta togliere la vita. E da ancora oggi non lo pensiamo. Crediamo che si sia trattato di un incidente. Queste le dichiarazioni che emergono da chi la conosceva. Questa mattina ci dicono, l'abbiamo vista come altre volte recarsi a casa della cugina del marito per prendere il caffè. Poi la notizia, una vera tragedia. Era una persona che mai aveva dato segni di depressione. Questo è il racconto di chi la conosceva bene e questa mattina è rimasto sconvolto dal dramma.